Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti E' tempo perso, non si rassegnano. La lezione elettorale del 4 marzo non è servita a niente. Luigi Famiglietti e Valentina Paris, ossia i due parlamentari irpini del PD brutalmente trombati, invece di cento passi indietro ne vogliono fare uno in avanti. Il mancato statista di Frigedo ambisce alla carica di segretario provinciale del partito. La mancata Nilde Iotti di Arripalda vuole addirittura diventare assessore regionale. Che dire, al confronto con questi due, se tanto mi dà tanto, Roberta Santaniello, senza doversi nemmeno sforzare, potrebbe sostituire Federuca alla guida della regione.